E-Ginastica, allestimenti ed eventi per lo sport, presenta un'impresa unica e ascendente verso la ritmica, artistica e corpo libero. Un prodotto completamente customizzato per una transazione digitale, per un evento innovativo e all'avanguardia. In collaborazione con Cata Digital Comunicazione e la Dixoft Rapp Produzioni, ora un vero e proprio format, ma anche un vero e proprio rilancio della competizione sportiva. Attraverso la riscoperta delle aree di vite, generiamo in team e in tempo reale contenuti, con premiazioni, stage e interviste ai campioni. Su diretta o indifferita, un vero e proprio prodotto regia, con operatori, giornalisti e presentatori volti a valorizzare associazioni, sponsor e struttura allo sport. In un ambiente meritevole all'impegno e alla fatica, Video S Live, prossimamente, assieme alle associazioni competenti per le vostre competizioni locali. Video S Live, da Creative Studio Dixoft Rf, studiato in varie formule e proposte, anche per PMI e multinazionali, per un cambiamento forte e visibile in ogni diretta ad alta definizione. Basta osservare il passato, noi pianifichiamo il futuro.